Camparini possiamo incominciare, iniziamo con un po' di ritardo non per colpa nostra questa sessione, io da buon presidente cercherò di dare il meno fastidio possibile, voglio solo dirvi che prima delle tre relazioni il dottor Rosco mi ha pregato di dargli la parola per farci sentire qualcosa di nuovo sulle mappe vascolari venose non so se c'è su Google Map, se no ci fornirà il dischetto casomai, prego Rosco no non siamo a questo punto avanti, volevo soltanto informare l'uditorio che noi nel Lazio stiamo lavorando a un'ipotesi di mappografia venosa standardizzata e informatizzata per intenderci in parole semplici, laddove sono arrivati il gruppo di Zamboni e stamattina Mandolesi ci ha fatto molto ben vedere noi forse dobbiamo ancora partire, però il percorso è lo stesso, vedete qui l'esempio al quale stiamo lavorando ed è un work in progress in questo momento speriamo di poter portare alla prossima occasione SIF un progetto più avanzato e poi di condividerlo con i colleghi in modo da poterlo proporre come modello SIF affinché tutti gli studi ecodopper degli arti inferiori dei soci della SIF avvengano secondo un modello standardizzato avremo così del materiale che è confrontabile e statisticamente lavorabile altrimenti ognuno parla una lingua sua ecco, noi stiamo lavorando a questo, grazie grazie